I tuoi dati aziendali, frutto di continue copie e duplicazioni delle attività di ogni giorno, continuano a moltiplicarsi e si cristallizzano sotto la superficie dei tuoi archivi personali. I dati primari sono solo la punta dell'iceberg che è il tuo data center, mentre l'80% dei dati della tua azienda sono immersi nel secondary storage. Ti offriamo una soluzione congiunta che ti permette di filtrare questa moltitudine di dati frammentati e ottimizzare i costi di gestione del data center dell'azienda, migliorandone le performance. Questa è la punta di diamante delle soluzioni di secondary storage disponibili sul mercato per organizzare, archiviare, proteggere e analizzare i dati e avere più spazio nel tuo data center. È semplice anche a livello di implementazione, grazie ad un'unica gestione dell'offerta. Siamo già vicini a te. Contattaci. Siamo il partner giusto per rendere i tuoi dati più produttivi per il tuo business.